carissimi amici ciao a tutti barile di vacanza anche per me e si perché ci vuole ci vuole qualche giorno qualche giorno di break in questo agosto che è stato per me lavorativo come anche per voi e mi sono portato dietro questa diareris in tubo appunto per per le vacanze perché volevo avere il viso morbido accarezzato da questa da questa crema che ho scoperto da poco tempo in formato tubo di diareris questa nella versione alla fragranza di rosa ma io l'ho portata con me e devo dire che il il formato è eccezionale perché è piccolino è una 75 grammi sì 75 grammi e la voglio utilizzare in questi giorni per la rasatura visto che sono in questo ambiente in francia corta in lombardia e volevo stare un po distante dalla 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 resta vacanziera marittima no volevo stare un po tranquillo tanto questo questo posto c'è la piscina all'aperto per cui c'è pochissima gente sto bene e volevo utilizzare questa questa diareris per completare un po il questo connubio tra natura e rasatura e così ho comprato questa diareris che voglio utilizzare che voglio provare anche subito voglio testare un po subito come funziona sul 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 viso perché ho portato un pennello un omega 621 che ho messo già a bagno per la rasatura o non so quando riuscirete a vedere questo video non so se nell'immediatezza perché qui c'è il wifi però non so i tempi di caricamento però vediamo un po mi bagno un attimo il viso vediamo come estendere questa crema magari mi vedete anche male perché la luce non è eccezionale qui è un po peggio che a casa insomma perché è tutto un dia perché già a casa allora vediamo un po questa diareris in tubo fragranza rosa che già sento esplodere olfattivamente ragazzi ragazzi è incredibile il profumo di rosa veramente spicca questo profumo di rosa è qualcosa di eccezionale voglio montarla in viso con l'omega 621 per vedere che cosa succede primo test primo test per questa questa crema diareris che ho scelto per il viaggio e che dire l'esplosione di del profumo della rosa è pazzesco e scusate in questo bel posto scusate la mia bottezza lo comincia a montare questa diareris favolosa è favolosa con questo profumo di rosa è incredibile amici è incredibile il profumo è veramente fantastico ecco che si riescono ad avere dei prodotti eccezionali anche durante il viaggio durante il viaggio per le vacanze perché rinunciare a una crema in tubo eccezionale è un'esplosione dall'aroma che sprigiona veramente natura tra l'altro gli oli essenziali di rosa sono particolarmente pregiati e non è facile realizzare un prodotto del genere con questa cremosità io la trovo la trovo veramente ricca veramente eccezionale perché si sentono dei notevoli simili eccezionali di rosa tra l'altro io ho un roseto che ho visitato questa mattina e avevo letto nella recensione di questo posto e appunto c'era un roseto così mi ero deciso di utilizzare questa crema che avevo già acquistato mesi fa e che poi non ho utilizzato e pensate ho scelto questo posto appositamente per questa crema pensate alla coincidenza è incredibile quello che può succedere con gli eventi che scaturiscono nella nostra mente questi profumi veramente mi ricordano quello che ho provato stamattina quando sono entrato nel roseto un impatto olfattivo incredibile perché vi trovate di fronte a 3000-4000 rose che vi esplodono olfattivamente e sentite questo profumo ebbene questa diareris in tubo io l'ho trovata in questo profumo magari vi sembra un deficiente perché perché ho scelto una vacanza magari in base alla profumazione di una crema però un po' bisogna lasciare andare agli eventi lasciare un po' il destino il proprio futuro cioè lasciare alla casualità il proprio futuro e lo so possono sembrare discorsi un po' strani però ho ritrovato questo profumo di rosa incredibile come incredibile anche la cremosità di questa crema che ora devo sciacquare via scusate magari per il tempo perso durante il risciatto è una crema che poi ritroveremo durante l'area d'altura spero con una migliore illuminazione perché non è delle migliori forse perché ho la finestra aperta fuori si sentono i rumori della natura però mi andava di stare lontano un po' dal mare le spiagge italiane sono prese d'assalto visto gli attentati esteri che ci sono stati quindi volevo stare un po' tranquillo e ho preso in considerazione questo posto nella Franciacorta per stare un po' tranquillo tra l'altro si tratta di posti delle mie parti quindi poco distanti da Milano perché sono a un'ora di macchina però sono ugualmente fantastici dove si mangia e si beve egregiamente assolutamente bene cari amici un grosso saluto da Mauro dal canale della rosatura del neofita un abbraccio a tutti e a presto per un nuovo video